va freddissimo credi che la gente ci potesse si beh non avevano scelta qualcuno non ce l'ha ancora non c'era no non allora era la miniera arrivava fino in superficie perché l'avrebbero coperta non lo so ma passare di lì per tornare alla prigione non vediamo l'ora di condividere le nostre scoperte il cugnere di decenni di ricerca chi si rivolge non a noi cerco di scaricare più dati possibili ci vediamo dentro la cupola è iniziata con una chiamata di emergenza un contagio misterioso su carlista la sintomatologia era affascinante e poi una forma di evoluzione accelerata simile a quella scoperta se riusciremo a capire la malattia potremo re-ingegnerizzarla e studiare l'effetto parato una volta messo in sicurezza il sito è stato costruito un laboratorio e poi una base di ricerca con tante cavi a disposizione ecco che costruire black eye è tutta una specie di esperimento dopo decenni di ricerca siamo vicini alla marina la fonte da cui è partito tutto un nuovo capitolo per il nostro progetto per il nostro progetto per il nostro progetto per il nostro progetto quindi abbiamo portati al laboratorio il patogeno agito da accelerante evolutivo mutando i coloni poco più che i serabili nostri ok eccezione il cosiddetto soggetto zero in qualche modo è riuscito a ottenere solo i benefici forza, resistenza e vegetali riservandola da delle ragioni è stato ucciso dalle forze di sicurezza ma il suo corpo è stato portato a lavoro uno dei numeri riuscito a portare a portare a portare Christian 5,2,1 io e te abbiamo un affare in sospeso Come vedi, le cose sono cambiate. Jacob, la porta per la superfi... Ti troverò ovunque tu vado! Ho quasi fatto! Nessuno può scocciermi, hai capito? Nessuno! Sì, sono andato troppo bravo! Cercherò soltanto di perderti, ma presto. Sarai una bimba. Sto bene. Non fermiamoci. Sto bene. Non fermiamoci. Quella piattaforma ci porterà in superficie. Ce l'abbiamo fatta! Certo! Dani! Dani! Ehi, 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 ehi! No, non... non è giusto. Ma presto... Merda... Ho permesso di fermarsi. Non diventerò una di quelle cose! No, 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 no! Ok, non succederà! Sentilo! Troverete! Come?! Ci atterremo al piano e arriveremo fino alla torre del direttore. Ci sarà il modo di invertire il processo. Può saperlo! Lo troverò! Ma non ci arrenderemo adesso. Arriveremo fino in fondo. Insieme. Ok? Ok. Dai! Alzati! Sì! Stai bene? Per ora... Questa ti servirà. Ok? Ci siamo quasi. Cosa! O. Cosa! 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 la presione al pilota automatico il sistema è andato a buttane ce l'ho quasi fatta dobbiamo andarcene da qui buona idea il segnale del direttore ancora attivo nella torre possiamo raggiungerlo mi occupo della porta se che va tornate alle celle Grazie a tutti.